E rientriamo allora in onda, una puntata veramente ricchissima, questa puntata speciale di Play, qui in diretta dal Salone del Libro, non l'ho ancora specificato, siamo ospiti come ogni anno dello stand di Claudiana, ci trovate nella fila L, quindi potete trovare questo stand, oltre a questo salotto radio televisivo ci sono chiaramente anche tutti i libri esposti, ma proseguiamo con un'altra coppia di autori che sembrano occuparsi di un tema completamente diverso, ma in realtà un filo conduttore c'è, qui in presenza di fianco a me ho il professore Alberto Grandi che forse conoscete nel caso siete appassionati di podcast in particolare, perché uno dei podcast più ascoltati di recente qui in Italia è proprio DOI, denominazione di origine inventata, si parla delle origini inventate rispetto alle tradizioni culinarie italiane, qui in particolare si sofferma su un tema, ma intanto lo saluto, grazie mille. Grazie a voi dell'invito. E a distanza invece si occupa di tutte altre storie, ma fino a un certo punto Leonardo Bianchi si occupa soprattutto di teorie del complotto, sia in una newsletter che si chiama proprio Complotti, ma ad esempio anche con questo libro pubblicato per Minimum Facts, ve lo faccio vedere intanto, e lo saluto, ciao Leonardo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, i temi da esplorare qui sono tanti, direi che il tema principe può essere quello della mistificazione della realtà, il modificare la realtà, e molto spesso, sia per quanto riguarda il cibo, sia per quanto riguarda i complotti, si parte dal passato, a dare ad impattare il passato, a modificare il passato, allora faccio la domanda proprio da un milione di euro. Come mai funziona così bene? Come mai per influenzare il presente funziona così bene andare all'origine e inventarsele? Rispondo io? Allora, per me la risposta più semplice è che siccome gran parte delle persone non conoscono il passato, è facile far riferimento a un passato mitico o mitizzato per poi dimostrare qualcosa di diverso rispetto al presente. Questo è, diciamo, l'uso strumentale che in realtà si è sempre fatto della storia, perché non è una cosa di questi tempi, ma è sempre stato così. Quindi questo è il motivo per cui spesso ci si appella a un passato mitologico e in questo modo si costruisce un'identità o anche una paura, un complotto nell'attualità. Questa è la risposta più semplice. Poi in realtà ci sono anche probabilmente delle resistenze, cioè ci sono delle inerzie. Il passato comunque continua a influenzare il nostro modo di pensare e quindi è facile fare leva anche su questa dimensione. Poi c'è anche un'altra questione, il passato rassicura. Quando si, in qualche modo, quasi tutte le aziende dal 1932, c'è sempre questo richiamo a un passato. Ecco, il passato rassicura e quindi o fa paura o rassicura, comunque è sempre utile, diciamo, dal punto di vista narrativo. Non so se ho risposto. Sì, sì, assolutamente. Questo ultimo punto in particolare. Passo la domanda anche a Leonardo Bianchi. Immagino che ci sia anche l'opposto, cioè il passato che rassicura, ma anche il passato che spaventa, forse, o forse no? Sì, più che il passato spaventa, è il futuro che spaventa e anche il presente. Per quello che, appunto, come diceva il professor Grandi, si torna indietro a guardare un passato mitizzato. Quello che ogni teoria del complotto ha, diciamo, nel suo cuore, è il mito di un'età dell'oro, cioè di un passato che è mitizzato, in cui tutti stavano bene e non c'erano problemi, non c'erano conflitti sociali, eccetera, eccetera. In realtà poi non è mai così perché non esiste alcun'età dell'oro. Tutte le tradizioni sono inventate, praticamente, e questo vale sia per il cibo, ovviamente, che per la politica anche. E in questo senso, spesso e volentieri, però, appunto, la paura del futuro nasconde una manipolazione del passato, ovviamente, che diventa una pappa omogenea e indistinta da cui prendere tutto quello che serve per costruire un futuro, spesso e volentieri, che è, diciamo, utopico per chi si rifà a certe teorie del complotto. Sto pensando, ad esempio, a quella di Q&ON, su cui magari poi approfondiremo, ma che in realtà per molte altre persone è un futuro distopico, perché spesso e volentieri l'utilizzo del passato serve a dissodare il terreno per, ad esempio, un colpo di Stato o comunque una svolta autoritaria e anche a creare dei bersagli all'interno della società. Questo, infatti, è anche questo l'utilizzo del passato, perché è un futuro che non assomiglia per niente al passato mitizzato, ecco. Vedo Alberto Grandi che annuisce con entusiasmo. Vi siete trovati? Per quanto riguarda il cibo, nello specifico, una delle mie battaglie è quella quando si dice i nostri nonni mangiavano meglio, no, i nostri nonni mangiavano meno e peggio, e quindi non è assolutamente vero, però appunto si costruisce questo passato mitologico per dimostrare poi alcune cose molto terra-terra anche per quanto riguarda il nostro presente, l'idea di un'agricoltura sostenibile attraverso tecniche di 100-200 anni fa, che non ha nessun senso, perché già erano insostenibili allora quando gli abitanti della terra erano meno di un miliardo, figuriamoci adesso che siamo 8 miliardi, quindi non ha assolutamente nessun senso. Però questo è, quindi sì, c'è sempre questo uso del passato strumentale. E questo elemento dei nonni che non stavano meglio di noi ci riporta la prima intervista che ho fatto quest'oggi qui, si parlava di migrazioni, di massa, si parlava di 30 milioni circa di persone, evidentemente non si stava così bene. Sì, questo è un altro, chi mi sente parlare forse farà anche un po' stufo di sentire questa cosa, però davvero, come dico sempre, noi non sappiamo neanche quanti siano gli italiani che se ne sono andati, oscilla tra i 20-25 milioni e questa gente qui se ne è andata perché aveva fame, cioè se poteva mangiare la pizza e i macchieroni stava qua, non andava in America a fare gli schiavi. Ma fra l'altro, questo è un altro mio cruccio, noi abbiamo un'idea ottocentesca dell'immigrazione, ma in realtà 1956 il disastro di Marcinelle, quando il governo italiano vendeva, erano schiavi, vendeva mille minatori alla settimana in cambio di 200 kg di carbone al giorno per ogni minatore. Questo è schiavismo, non c'è un altro modo per chiamare questa cosa qui, ed erano italiani 1956, quindi nel 60-70 anni fa. Una storia assolutamente rimossa. Avete toccato un tema, e voglio ripartire allora da Leonardo Bianchi, un altro tema che lega il vostro lavoro, in particolare qui Alberto Grandi ci porta a storia delle nostre paure alimentari. Allora l'abbiamo toccato prima, ritorniamo sul tema delle paure. Nell'ambito delle teorie del complotto, credi che la paura sia il sentimento cardine attorno al quale vengono sviluppate? Allora, sicuramente è uno degli elementi cardine. È la paura appunto, come dicevo prima, di un futuro minaccioso e di un presente che non aderisce a ciò che pensiamo, a ciò che ci aspettiamo, a ciò che crediamo. Quindi c'è anche, quando parlo di credere infatti, c'è anche una dimensione ovviamente ideologica, ma anche in certi casi religiosa all'interno delle teorie del complotto. Ed è anche per questo che hanno così successo, perché vanno comunque a creare anche delle comunità. Io metto sempre in mezzo l'esempio di Kenon, perché secondo me proprio incarna tutto ciò che è il complottismo nel ventunesimo secolo. E cioè è una teoria del complotto che sostiene appunto l'esistenza di una cricca di pedofili satanisti che segretamente controlla il governo degli Stati Uniti e che solo Trump e altri patrioti possono sconfiggere. E questa è la base della teoria. Ma col tempo la teoria si è trasformata in un vero e proprio movimento politico e secondo alcuni ricercatori in un movimento iper-religioso quasi, o pseudo-religioso, chiamalo come vogliamo, proprio per l'intensità del credo, nonostante tutte le profezie mancate, tutte le profezie fallite. Ad esempio la teoria era partizzata dal fatto che Hillary Clinton dovrebbe essere arrestata a breve ed era il 2017, chiaramente non è stata ancora arrestata. Nonostante questo tutte le profezie fallite hanno in un certo senso rinforzato il credo di chi aderisce. Quindi non è solo la paura, è anche un'adesione ideologica, è anche un'adesione sentimentale che crea una vera e propria comunità ed è per questo anche che è sbagliato liquidarle come una cosa che riguarda pochi pazzoidi e completamente irrazionali. Tutt'altro, spesso e volentieri, dietro le teorie complotto, c'è un pensiero assolutamente razionale e anche in certi casi, è anche molto ideologico e in certi casi può anche diventare molto pericoloso. Poi sulla paura magari, qua lanciò la palla dal professor Grandi, ad esempio, spesso e volentieri, anzi recentemente, sicuramente tutta la questione delle farine di grilli e polveri di locusta, eccetera, quella è chiaramente la paura, cioè con una componente di paura verso il cambiamento, ma la cosa interessante è che non riguarda tanto, cioè non riguarda solo il cibo, riguarda proprio un intero pacchetto di valori di credenze, perché chi tendenzialmente, specialmente all'interno delle comunità complottiste, ma non solo, ha una versione totale nei confronti di questi nuovi alimenti, che poi non sono neanche nuovi, ma per questo è un altro discorso, tendenzialmente prende un aspetto di questa questione e lo lega a tutt'altro, ad esempio l'Europa, o comunque i poteri forti, vogliono imporci di mangiare i grilli, però non solo perché vogliono cambiare la nostra alimentazione, ma perché vogliono proprio cambiare tutto il nostro stile di vita, tutti i nostri valori, e spesso e volentieri queste teorie poi si legano ad altre, ad esempio quelle sul grande reset, quindi la soppressione delle libertà individuali, e poi si collega anche a teorie homo-lesbo-bitransfobiche, per dire, perché ci impongono di mangiare i grilli e impongono i nostri bambini di diventare LGBT, o cose di questo genere, ecco. Credo che il professor Grani si stia slogando il colla, forza di annuire, gli hai passato la palla. Ti ringrazio perché davvero questa cosa qui mi ha permesso di capire una cosa che non avevo ancora capito, e che mi riguarda personalmente. Quando la famosa intervista al Financial Times, che ha scatenato l'inferno, è uscita contestualmente alla candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO. La Gazzetta di Parma, io insegno Parma, la Gazzetta di Parma ha fatto un articolo dove vi metteva esattamente insieme a questa cosa qui, cioè diceva c'è un attacco alla nostra identità, che parte dalle farine di insetti, la carne sintetica, e poi grandi che dice che il parmigiano ha una storia diversa, quindi c'è proprio una questione radicale, e ovviamente tutto si mescolava. Io ho fatto anche fatica, anzi alla fine poi ho deciso di non rispondere, perché non sapevo da che parte prenderla, quell'attacco lì. Ecco, questa è un'altra cosa, gli esperti di complottismo potrebbero dare delle indicazioni, perché io non sapevo da che parte prenderla quella cosa, perché era terribile, mi metteva dentro in un fricandos, si può usare questo termine, dove appunto, era un attacco alla nostra identità e quindi alla nostra attualità e anche al nostro futuro, cioè i poteri forti di cui grandi fa parte, purtroppo non è vero, ma insomma comunque grandi fa parte, e ci vogliono distruggere, vogliono annientare la nostra identità, e tutto faceva prodo, non so se mi sono spiegato. Mi immagino che anche chi critica Leonardo Bianchi ti consideri parte dei poteri forti e abbia un approccio simile. Sì, no, certo, quello è il destino di chiunque si occupi di queste cose, ma comunque è abbastanza normale. Certo, poi appunto, quando finisci un po' nell'occhio del ciclone, come è successo al professor Grandi, è una cosa che va completamente al di là di… cioè non è contrastabile in un certo senso, anche perché comunque si innesta in un turbinio di credenze diverse, che poi tutto si tiene insieme e diventa un blob pazzesco, dopo impossibile sfuggire, praticamente bisogna sottrarsi non rispondendo, credo, comunque, cioè stando molto sul punto, ecco. Cioè è inutile rispondere a chi dice che fai parte di una cospirazione per far cambiare che attraverso, non lo so, la polvere di grillo diventi… Chiaro, tanto non ti crederanno. Cambi identità sessuale, ecco. Tanto non ti crederanno. Per chiudere, molto rapidamente, so che il professor Grandi ha un altro intervento, un'altra domanda però molto complicata, quindi la difficoltà è doppia, rispondere alla domanda e tenere la risposta molto breve, come facciamo ad orientarci? Tu hai parlato di Blob, Leonardo, faccio la domanda prima al professor Grandi, come facciamo ad orientarci, come facciamo a capire, effettivamente, a distinguere la realtà dalla finzione? Io rispondo per la mia parte, in realtà da storico ti direi che non c'è uno strumento sicuro, si tratta semplicemente di applicare per quanto possibile il metodo scientifico, cioè appunto dimostrazione, tu mi dici una cosa, dimostramela e fammi vedere su quale base tu stai dimostrando la tua cosa. E ovviamente questo strumento è assolutamente inefficace rispetto ai complottisti, perché chiaramente questi dicono no, tu stai cercando di applicare il tuo metodo alla mia teoria che è giusta, ma è giusta dal mio punto di vista e quindi quel tuo metodo sicuramente è falsificata. Quindi secondo me non se ne esce. Questa cosa mi fa venire in mente gli esempi che faccio nel libro di tutte le malattie inventate, tutte le paure alimentari inventate, ogni volta la scienza diceva guarda che non è così, ma non c'era modo, cioè alla fine poi queste paure tendevano a spegnersi da sole, ma non per effetto appunto di un'informazione corretta, ma per consunzione, non so come dire, insomma alla fine questo è. Si pensa ad altro. Leonardo rapidamente, tu hai qualcosa da aggiungere? Tendenzialmente no, però solo una piccola postilla. Io sono d'accordo con il professor Grandi sul fatto che in realtà c'è poco da fare, ma poi lo dicono un po' tutti gli esperti che si occupano di teoria del complotto e disinformazione, nel senso che chiaramente non c'è nulla da fare, in realtà ci sarebbe molto da fare, ma non c'è nulla da fare con chi è caduto molto in profondità nella tana del bianconiglio, cioè con le persone estremamente radicalizzate, lì non c'è nulla da fare, non cambieranno mai la posizione. Secondo me invece è quello che cerco di fare, sia con la newsletter, è andare a intervenire tra virgolette sulla zona grigia del dubbio, perché quello che il complottismo fa è prendere dei dubbi legittimi che tutti hanno e estenderli all'infinito per cercare di far comprendere una realtà sfuggente e caotica, ma arrivando quasi sempre, anzi sempre a soluzioni sbagliate, a problemi reali. Invece bisognerebbe occuparsi proprio delle, andare proprio alle cause dei problemi reali e intervenire sulla zona grigia del dubbio che tutti hanno, ma attraverso ovviamente, non solo, il professor Grandi parlava del metodo scientifico, io parlo dal punto di vista giornalistico attraverso l'inchiesta e la corretta valutazione delle fonti e soprattutto mettendo i fatti in fila in maniera logica. Chiaro, ed è quello che si può leggere sul libro Appunto Complotti di Leonardo Bianchi anche sulla newsletter che porta lo stesso nome. Invece l'ultimo libro di Alberto Grandi è Storia delle nostre paure alimentari, il primo libro per Minimum Facts, il secondo per Abocca Edizioni. Grazie mille davvero ad entrambi. Grazie a voi, grazie a voi.